Buongiorno Dottor Giorgetti, grazie per aver accettato il nostro invito. Le porrò una serie di domande riguardo la comunicazione digitale. Ecco la prima. Dottor Giorgetti, può spiegare cos'è l'osservatorio digitale e quali sono gli obiettivi concreti che il fruitore di internet può apprezzare? L'osservatorio nasce da un'esigenza che è quella di mettere a sistema, rendere armonica per quanto possibile l'enorme quantità di dati che vengono forniti dal mondo digitale. Un mondo che come sappiamo si alimenta autonomamente senza essere regolato e con molta incapacità onestamente di saper leggere i dati per cui le buone pratiche dalle fake news, i numeri gonfiati da quelli effettivamente reali ma soprattutto abbiamo intenzione di fornire all'utente e alla comunità digitale una visione per quanto possibile corretta di tutto quello che viaggia nel web per cui il corretto uso dei mezzi e degli strumenti che ci vengono messi a disposizione proprio dal digitale e anche per questo motivo l'osservatorio fornisce servizi di formazione, di approfondimento a chi ovviamente vuole richiederli. È ovvio che tutto ciò non poteva che essere creato da professionisti nel settore della comunicazione, del marketing, in particolare del marketing digitale come me. Direttore, una recente vostra analisi ha riguardato il campionato di calcio di Serie A laddove avete comparato il rapporto tra le squadre e i loro follower dei social. Quali dati inaspettati sono usciti? Guardi, che la Juventus sia la più seguita su web, visto anche i risultati degli ultimi anni e il potenziale che questo club esprime da tantissimo tempo, non è ovviamente una notizia. Diventa però una notizia che più della Juventus sono l'Inter e Mila, le due squadre milanesi, che hanno un engagement migliore. L'engagement è sostanzialmente la capacità di creare community e la reazione, l'interazione di conseguenza e il grado di coinvolgimento che si riesce ad ottenere da parte degli utenti che seguono le attività di social media marketing. Un dato sicuramente sorprendente è quello dell'Atalanta, che fa registrare il rapporto tra i propri follower e il grado di coinvolgimento, per cui l'engagement è sicuramente più alto tra le 20 squadre di Serie A. Questo rapporto tra il numero di tifosi e di follower ha un'altra appendice che abbiamo analizzato, cioè di quanto Juventus e Inter Milan abbiano un pubblico molto più ampio di quello dei propri tifosi e di conseguenza di quanto riescono poi a posizionare il brand e l'interesse anche verso a chi non è tifoso. Fa eccezione rispetto a queste tre squadre a livello non tanto di volumi, ma quanto appunto di moltiplicazione della capacità di passare dal numero di tifosi reale e al numero di follower il Sassuolo, che praticamente ha un numero, se non lato per la grandezza della propria città, moltiplica il numero dei tifosi raggiungendo il numero di tifosi dieci volte rispetto ai propri tifosi. hanno degli ottimi valori la Roma, molto più nella capitale di quanto abbia la Lazio e il Parma. Mentre invece ci sono, possiamo definire, due punte di criticità, se vogliamo segnalarle, con rispetto ovviamente nei confronti dell'attività anche digitale dei club, che sono il Cagliari e il Torino, che oltre il proprio nucleo di tifosi, sul digitale non riescono ad andare. E' ovvio che il rapporto tra i club e i tifosi ha anche un grande valore sociale. Quello che abbiamo analizzato è il fatto che le attività di social media marketing sono stato il luogo che ha consentito molto di più di quanto succedeva in passato, anche a seguito del lockdown, di sapere incontrare i tifosi anche fuori dallo stadio. E dobbiamo anche capire che ci sono due modi da parte dei club, come per qualsiasi altro brand, di posizionarsi sui social, o pubblicando contenuti senza aspettarsi che questo ottenga e susciti una reazione da parte dell'utente, o tendere ad avere invece una reazione che fa scatenare quell'engagement di cui parlavamo. È ovvio che quest'ultimo è quello più auspicabile, sia perché tante più sono le interazioni, tanto più il contenuto viene posizionato, ora qui entreremo in delle logiche tecniche e algoritmiche, ma soprattutto perché questi sono strumenti che servono soprattutto ad un confronto, dove il club può anche esprimere non solo la propria attività agonistica, ma anche i propri valori etici o morali, oltre che ovviamente di pura informazione. Insomma, cercando di coinvolgere il tifoso quanto più possibile. E poi c'è un valore economico. Perché? Perché nel digitale oggi si vendono i biglietti, si fa merchandising, si danno servizi al tifoso insomma di ogni genere. Allora dobbiamo partire da una profonda considerazione, che oggi il valore di una società è molto dovuto al posizionamento del brand, che nei propri bilanci ha un peso specifico significativo. E adesso viene acquisito in molti modi in cui il marchio viene comunicato. E il digitale diventa il luogo che più di altri riguarda la reputazione e l'autorevolezza, che viene messa completamente a nudo, in gioco, diciamo, rispetto alla propria forza e anche solo alla propria tifoseria. È proprio, come dicevo, sotto il lockdown, che la mancanza di competizione sportiva si è invece consumata su altri temi, come quelli sociali, di appartenenza, di narrazione dei propri valori e delle proprie tradizioni. Questo consente ovviamente di poter avere una funzione di fedelizzazione nel rapporto tra tifoso e club. Molte squadre, per esempio, europee, che è un'indagine che stiamo facendo, rilasceremo da qui a circa una decina di giorni, per cui delle 32 squadre della fase a giorni della Champions League, utilizzano spesso più delle italiane proprio il digitale per fare merchandising, per vendere, per dare servizi al digitale e così via. Un'altra motivazione del perché ci siamo occupati di calcio è che Serie A è una delle prime dieci keywords che sono state utilizzate, cercate, dagli utenti su Google nel corso del 2020. Un altro recente vostro monitoraggio ha riguardato le agenzie di stampa italiane, anche in questo caso, osservando il seguito che le testate giornalistiche ottengono tramite i social. Quali sono le caratteristiche di fruizione di chi segue un'agenzia di stampa rispetto ad una squadra di calcio? Guardi, le squadre di calcio, come dicevamo, tendono sicuramente più a creare, potremmo usare proprio il nome tifoseria, anche sulle attività di social media marketing, sul digitale, in modo più complesso, per cui tendono di più appunto all'interazione. L'utilizzano molto più per conversare, per poter creare anche degli spazi dove il tifoso, l'utente, il simpatizzante può in qualche modo interagire con il club. Le agenzie di stampa tendono molto di più ad informare, si limitano solitamente ad informare, come d'altronde è un po' nella propria funzione. Sono poche le interazioni, pochi commenti per intenderci, molte poche le condivisioni. Insomma, l'utente è più passivo e la comunicazione sicuramente è un pochettino più fredda. Sul club di calcio quasi tutte le squadre utilizzano delle strategie piuttosto complesse, spesso di successo, ovviamente quelle citate in maniera particolare. Nelle agenzie, se facciamo l'eccezione del Lanza, che su quasi tutti i dati che abbiamo rilevato risulta in testa, d'altronde come sappiamo è l'agenzia di stampa più grande che c'è nel nostro paese, ADN Cronos, AGI e Ascan News, per il resto devo dire che l'agenzia dei minori utilizzano, usa un termine come dire, un po' improprio, un po' come una discarica di comunicati stampa, anche le attività social, ovviamente sbagliando strategia, dicendolo anche in questo caso con molto rispetto. Perché? Perché le attività social sono prevalentemente dei luoghi di conversazione, non solo di condivisione, in particolare quelle attività di social media marketing, basta prendere l'esempio di Facebook, che sono e tendono ad essere, soprattutto da chi ne ha la proprietà, proprio un luogo dove si cerca in qualche modo più di narare, piuttosto che in modo molto freddo, di poter comunicare, avendo una finalità fine a se stessa. I prossimi vostri focus di valutazione di chi accede al mondo dei siti e dei social riguarderanno quali ambiti? Uno lo citavo prima, nel senso che fra appunto una decina di giorni noi usciremo con un'esclusiva che abbiamo concesso al Sole 24 Ore sulle attività sportive di altri campionati, la Champions League riguardo a calcio e sicuramente il campionato di basket e di pallavolo che, come sapete, sono tra i due massimi campionati a squadre più seguiti del nostro paese. Abbiamo da pochissimo rilasciato proprio in questi giorni e pubblicato due ricerche secondo noi significative, diciamo che ci fa uscire dai temi del mondo dello spettacolo dopo che insieme a calcio siamo usciti con i talk show, i conduttori dei maggiori talk show di carattere politico del nostro paese, tornando a temi più complessi e potremmo dire anche più etici. Uno riguardato le organizzazioni internazionali, operanti a livello mondiale, riconosciute per intenderci parliamo di ONU, di FAO, di Organizzazione Mondiale della Sanità, di UNESCO, di UNICEF eccetera e abbiamo rilasciato anche una ricerca che ha guardato le istituzioni italiane, gli organi istituzionali, le autorità di garanzia di controllo, i ministeri e gli enti e le società pubbliche. Questi ultimi due sono state ricerche molto profonde che hanno investigato sul modo in cui nel nostro paese sta avanzando, in qualche modo potremmo dire anche una certa educazione nei confronti di come gli enti pubblici possono utilizzare strumenti che solitamente conoscevano poco fino a qualche anno fa per poter appunto tendere ad avere un rapporto diretto con l'utente. Nel nostro paese bisogna ammettere che da questo punto di vista siamo un pochettino indietro rispetto all'alfabetizzazione digitale. Nel resto del mondo le attività social vengono solitamente utilizzate in maniera anche, come dire, meno come noi la conosciamo, come utenti comuni dove insomma ci scaricano in qualche modo tutte le proprie gioie, i dolori, le frustrazioni, il mal di pancia e qualsiasi ovviamente cosa che durante la quotidianità fanno, mentre invece è una responsabilità da parte dei soggetti pubblici in particolare degli enti utilizzarli nella maniera più corretta possibile. Qua si paga un pochettino i dati insomma lo riconoscono il fatto che all'interno soprattutto di queste organizzazioni e delle istituzioni non ci sono delle figure che sono state contrattualizzate o all'interno del personale che hanno competenze specifiche sulle attività di digital marketing e in particolare di social media marketing. Sicuramente questo è un vuoto che in qualche modo va riempito e in questo senso mi permetto di sottolineare che da qualche anno c'è un'associazione riconosciuta a livello nazionale che sta facendo uno straordinario lavoro si chiama P.A. Social di cui mi onoro di far parte così come la mia organizzazione che tende ormai da anni a creare i presupposti affinché ci sia appunto un'educazione al corretto uso da parte delle pubbliche amministrazioni riguardo all'utilizzo delle attività di social media marketing. La ringrazio e le auguro buona giornata. Buona giornata anche lei e grazie dell'invito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.